Grazie, Presidente. Insomma, Ministro, potremmo dire che non confermo e non smentisco, perché non si è capito. L'idea che possiamo avere il nucleare senza le centrali nucleari ha lasciato perplesso anche il Ministro che ha appena lasciato l'aula, il suo collega Salvini, perché l'importante è avere una posizione. Il mio collega Bonelli ha una posizione molto chiara sul nucleare. Azione ce l'ha molto chiara sul nucleare e ce l'ha chiara in virtù, Presidente, dei seguenti dati. Secondo l'International Panel on Climate Change, il nucleare produce durante tutto il ciclo di vita, il nucleare attuale, Ministro, non lei giustamente prefigura ricerca, quarta generazione, innovazione, ma quello attuale produce circa la metà della CO2 e del fotovoltaico. Lo dico io, non lo dice il Presidente, lo dice Bonelli, lo dice l'IPCC. La United Nations Commission for Europe sostiene che il nucleare ha un impatto sull'ecosistema minore, sia dell'eolico che del fotovoltaico. Tutti i Paesi del G20 attualmente producono o hanno intenzione di produrre energia nucleare. Io non sono un tifoso del nucleare, sono però tifoso di un Paese che prova a risolvere i problemi che ha. I problemi che abbiamo, Ministro, sono che se ritardiamo l'avvio e la ripresa, lei ha fatto riferimento ad una Commissione che prova a capire l'orientamento circa il da farsi. Io penso che se non mettiamo fronte al tema del nucleare, noi abbiamo tre conseguenze dirette. La prima l'abbiamo già avuta con il Governo Draghi quando l'Ucraina è stata invasa dalla Russia, abbiamo riacceso le centrali a carbone, né io né lei, ma il Governo precedente. La seconda è che non risolveremo il problema dell'intermittenza, perché come tutti sanno sulle rinnovabili c'è un problema di continuità della produzione che il nucleare risolve. La terza, lo diceva la mia collega Ruffino, noi allontaniamo l'indipendenza dalle energie più inquinanti e questo dovrebbe essere un obiettivo che unisce tutto il Parlamento. Grazie.